Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 2 novembre. Iniziamo la settimana, iniziamo un nuovo mese, un nuovo mese insieme, il mese di novembre con l'informazione alle 7 del mattino in diretta. Buongiorno a tutti, cari telespettatori. Allora, oggi la Chiesa ricorda e commemora i defunti, di tutti i fedeli defunti, il sole è sorto alle 6.50, tramonterà alle 5 del pomeriggio. Adesso andiamo a vedere il tempo. Avremo cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvole alte e stratificate, temperature senza variazione di rilievo, attenzione ai banchi di nebbia nei fondovalle durante le ore fredde della giornata. Domani martedì 3 novembre, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, tempo buono anche per i prossimi giorni. Parliamo e cominciamo questa mattina, andiamo a vedere il nostro sito internet, vi ricordo occhiolanotizia.it, il portale di informazione della nostra redazione, sempre aggiornato 24 ore su 24, giorno e notte. Andiamo a vedere il titolo d'apertura. Si riferisce alla devastazione che c'è stata nel serata, nel tardo pomeriggio del giorno di Alu, in 31 di ottobre a Fano, in un quartiere di Fano, siamo nel quartiere di Sant'Orso. In primo piano c'è la dichiarazione dell'assessore alla polizia locale Cucchiarini, che dice un teatro di guerriglia urbana al via le indagini, denunce verbali. Poi, come vedete, le altre notizie, lampioni rotti, cassonetti rovinati, Aset denuncerà i danni subiti ad Halloween, e poi Halloween risse botti, atti vandalici ed alcol, il bilancio della notte brava. Poi, se volete, scendendo giù, ancora in secondo piano, Halloween, Circolo Sant'Orso PD, tanta rabbia e sconcerto dei residenti, e abbiamo anche il video, un video tra i tanti che troverete sul nostro sito internet, questo si riferisce alle immagini di questa, chiamiamola, guerriglia tra virgolette urbana, che ha richiamato circa 200 giovani, tra giovani e giovanissimi, 10 di questi sono stati anche identificati, 3 denunciati, a un certo punto hanno cominciato a sparare pedardi, a devastare, spaccare mezzo quartiere. Insomma, questa è un po' la situazione, troverete tutto sul nostro sito internet, occhionotizia.it. Ma andiamo con ordine, cominciamo dai quotidiani. Questa è la fotonotizia del Carlino di Pesaro di oggi, la VL sfata il tabù, vince in casa dopo 19 mesi, battuta a Cremona al supplementare. Ma c'è anche lo spazio in apertura per lo scontro che c'è all'interno della categoria dei ristoratori. Oggi è lunedì, oggi pomeriggio c'è un'altra manifestazione a Pesaro alle 18.30 in Piazza del Popolo, rilanciata da quella ristoratore che è diventato ormai famoso in tutta Italia, Carriera, che ha deciso di tenere aperti i suoi locali, o perlomeno ne ha aperti due, tutti e due multati e tutti e due chiusi, per protestare contro questo nuovo DPCM. Però c'è lo scontro con l'associazione di categoria, Conf Commercio, Conf Artigianato, Conf Commercio anzi per l'esattezza, quindi colleghi, e quindi insomma colleghi che dicono non ci rappresenta, insomma questa è un po' la situazione, lo scontro interno tra virgolette. Poi il Covid, San Salvatore ha attivati i dieci posti letto in più di terapia intensiva, questo è il fronte sanitario, mentre sul fronte del bollettino ci sono i contagi che nelle Marche, un po' come nel resto d'Italia, sono comunque sempre alti, 47 ricoveri in 24 ore, ma calano le terapie intensive, quindi diciamo che certamente è una situazione, come dire, in divenire, una situazione difficile, una situazione nella quale bisognerà stare tutti molto concentrati e soprattutto ognuno di noi deve fare la sua parte, però ecco sulla questione diciamo sanitaria, strettamente sanitaria, le cose sono completamente diverse rispetto a, questo lo dico per chi tenta ogni volta di paragonare le due cose, insomma non siamo ai livelli di marzo, adesso abbiamo molti più strumenti rispetto a prima, ma comunque sta di fatto che le cose non stanno andando bene come dovrebbero. Questo invece è il titolo del Corriere Adriatico di questa mattina. Ciao studenti, disdette per i bus, dall'overbooking alle corse da rimodulare, le famiglie chiedono di bloccare gli abbonamenti scolastici. Adria Bus dovrà attendere le disposizioni della Regione, e finora ha emesso quasi 5.000 voucher. Mentre domenica d'oro per la VL e per la Vis, sono le due squadre peseresi che hanno vinto, da una parte c'è il basket con la Cremona che è stato battuto sul parchè del Vitrifrigo, mentre dall'altra parte Galderisi, l'allegatore della VL e della, scusate, della Vis e Gennari, che esultano insieme agli altri per il gol segnato dai biancorossi. Dunque una domenica per i pesaresi dal punto di vista sportivo, certamente da incorniciare. Poi Pesaro stabili in degrado anche in Via Fratti, adesso si copre tutto lo stabile. Presidio, il Rebus di Piazza del Popolo, altri locali multati, qui si parla appunto della manifestazione di oggi pomeriggio, e poi a Fano, follie di Halloween, 200 ragazzini devastano Sant'Orso. Poi ricetta Bertolaso, c'è l'intervista che vedremo tra pochissimo, chiudere tutto e test di massa. Ma ripartiamo da Fano, ripartiamo dal quartiere Sant'Orso. Questa è la pagina del Corriere Adriatico, l'articolo scritto da Massimo Foghetti questa mattina, il titolo, devastato il quartiere Sant'Orso, in azione 200 ragazzini scatenati, follie di Halloween, fino alle 4 di notte, identificati 10 minori, uno denunciato, e c'è anche un'iniziativa legale di ASET. Sul posto la Polizia Locale Carabinieri, dopo l'allarme dei residenti, una guerra di botti. Allora, l'articolo inizia con questa frase, se Halloween ha in sé un che di diabolico, tutto si è concentrato nella serata di sabato scorso nel quartiere di Sant'Orso, messo letteralmente a soccuadro da circa 200 ragazzi dai 14 ai 18 anni, che da varie parti della città e della periferia si sono dati appuntamento nel quartiere. Qui si sono abbandonati ad ogni atto di vandalismo, distruggendo tutto ciò che incontravano sul passo delle loro scorribande. I giochi dei bambini nei parchi, gli arredi, le strutture pubbliche. È stato un susseguirsi di azioni teppistiche che hanno creato sia timori che rimostranze da parte dei residenti, provocati con lo scoppio di petardi e l'accensione di fumogene nei pressi delle loro case. La Polizia Locale non è stata però inerte, 10 minori sono stati identificati, di cui 3 detenevano materiale esplodente, la cui vendita è vietata ai minorenni. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha definito questi fatti di Sant'Orso intollerabili. Questa volta, ha detto Seri, è stato passato il segno. Non mancheremo di andare fino in fondo per punire i colpevoli. Stessa reazione di condanna da parte degli assessori Cucchiarini e Brunori. Ora, questa è la situazione. Io di questo articolo, che vi ho letto in parte, avrei soltanto tolto il se iniziale, se Halloween ha in sé un che di diabolico, e avrei iniziato con Halloween ha un se di diabolico. E tutto si è concentrato nella serata del 31 nel quartiere di Sant'Orso. Evidentemente questi ragazzi sono ragazzi maleducati, che non è un modo di dire che i poverini, insomma, hanno fatto una marachella. Maleducati significa maleducati, educati male. E quindi, come dire, la responsabilità è un po' di tutti, a partire dai genitori, poi un pezzettino là, un pezzettino qua, la responsabilità ce l'abbiamo tutti. Noi della televisione, noi quelli che fanno i professori, tutti quanti abbiamo una piccola percentuale di responsabilità in tutto quello che è successo in questa giornata. Questi 200 ragazzi, 10 dei quali a un certo punto hanno perso il lume della ragione, e si sono messi a devastare tutto quanto. Ora, come educarli? Educarli semplicemente presentandogli la lista di tutto quello che è stato rotto, quindi 50.000 euro di danni. Bene, sono in 10, 5.000 euro di danni a testa, e quelli li pagheranno fino all'ultimo centesimo. Se così non sarà, beh, vabbè. Vorrà dire che tutti gli altri 190 ragazzi diranno, avete visto, non è successo niente, il prossimo anno ci rivediamo qui e continueremo a divertirci, a spaccare tutto, perché tanto a livello di giustizia non paga nessuno, a livello economico non paga nessuno, e quindi restiamo impuniti. Ecco, allora veramente qui bisognerà annodare il fazzoletto al dito e controllare che le parole del sindaco siano fino alla fine rispettate. Qui dice il sindaco, dice il sindaco, questi fatti intollerabili, va bene, d'accordo, non mancheremo di andare fino in fondo per punire i colpevoli. Quindi verificheremo che non si lasci nulla di intentato. E sulla questione, su questa questione, il resto del Carlino titola chi ha fatto i danni pagherà tutto. Mi pare che sia la cosa più logica da fare, tanto in carcere non ci si possono mettere, no, mi pare, quindi, allora, almeno pagare i danni. Il sindaco di Sera invoca la tolleranza a zero. Vedremo contro chi ha fatto gli assalti a Sant'Orso per la festa di Halloween. E sui danneggiamenti interviene anche Paolo Reginelli, presidente dell'ASET, il quale ha dichiarato che sporgerà denuncia contro i gnoti. E il presidente di ASET dice sono stati rotti quattro lampioni dell'illuminazione pubblica vicino al campo da palacanestro, rovesciati a terra e rovinati diversi cassonetti dell'igiene ambientale, poi cita le vie, e poi sradicati gestini porta rifiuti. Non solo, guardate, hanno rotto persino la biblioteca, hanno spaccato, hanno fatto saltare addirittura, sì, perché parliamo di esplosivi anche, di botti, quelli che tra l'altro anche vietati ai minorenni. Quindi ci sarà qualcuno che ha venduto questi, poi magari li ha venduti a gente maggiorenne che li ha passati ai minorenni. Ma vabbè, adesso questo poco importa. La bibliocabina, quello che volevo dirvi è questo, la bibliocabina, dove all'interno di questa cabina ci sono i libri che venivano lasciati lì per essere letti, scambiati e quant'altro. Ecco, è stata fatta saltare anche la bibliocabina. Appello ai genitori, aiutate a fermare i vostri figli. I fondi, dice, per il ripristino degli arredi, dice l'assessore Brunoli, saranno sottratti ad altri interventi. È qui che è sbagliato. Ecco, questo non bisogna sottrarre i soldi da un capitolo all'altro per pagare la devastazione che è stata in atto. Si fa un conteggio di quello che si spende, poi si vanno da questa... Se accertate, chiaramente accertate le responsabilità, una volta accertate le responsabilità di questi giovani, si va e si porta il conto da pagare. Allora, torniamo un attimo sul Corriere Adriatico. Il Sindaco Bonci, qui siamo di nuovo a Fossombrone, no, siamo di nuovo, siamo a Fossombrone, il Sindaco Bonci sull'ospis, sull'ospedale, insomma. Non abbiamo votato contro. Chiarabilli viene smentito, ci siamo astenuti perché avevamo un atto più ampio. Ora, questo titolo lo prendo come spunto per ricordarvi che stasera abbiamo il Sindaco qui in diretta, il Sindaco di Fossombrone, appunto Gabriele Bonci, che risponderà alle vostre domande qui in diretta. Ora, andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Con il bypass traffico esterno a Fano e in dieci anni variante a sud della Statale. Qui si parla di viabilità. Cristian Fanesi nei giorni scorsi era stato messo di nuovo nel mirino dal Movimento 5 Stelle di Fano, il quale ha chiesto al Sindaco di ritirargli la delega per quanto riguarda, per le cose che aveva detto sul variante di Gimarra. Ora, lui risponde a Lorenzo Furlani che lo ha intervistato questa mattina dicendo che per la verità non è la prima volta che chiedono le mie dimissioni. Sulla viabilità si è aperto un dibattito molto interessante nel quale però il Movimento 5 Stelle non sapendo più cosa replicare ha usato la carta delle dimissioni. Hanno spostato un confronto molto approfondito dal piano dei contenuti al piano personale. Quindi un modo di lavorare davvero brutto, dice. Cristian Fanesi e risponde al collega sul Corriere Adriatico su alcune questioni molto delicate, molto importanti della viabilità fanese ed è un articolo che vi invito a leggere comprando appunto il giornale in edicola. Il virus invece ha mandato, oggi è la commemorazione dei defunti, il virus ha mandato in crisi anche i negozi di fiori, meno affluenza ai cimiteri, vendite ridotte, alle 10.30 la cerimonia con il Vescovo. Alle 10.30 di questa mattina al cimitero centrale si svolge la cerimonia pubblica con le autorità per la commemorazione dei defunti ufficiata dal Vescovo Armando Trasarti. Domani lutto cittadino per Don Aldemiro, siamo sulla pagina della Valle del Cesano, l'addio a Sant'Agostino in diretta su Fano TV. Mondolfo colpita al cuore per la morte del prete a causa del Covid. Dunque funerali in diretta, scrive Jacopo Zuccari, in diretta televisiva e lutto cittadino. La diocesi e la comunità cittadina si preparano all'ultimo saluto a Don Aldemiro Giuliani, 86 anni, il parco del sorriso, che dopo una settimana di recovery in ospedale è rimasto vittima del coronavirus. Il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato che domani in occasione dei funerali che si svolgeranno alle 15 a Sant'Agostino in segno di lutto verranno sospese tutte le iniziative pubbliche e si esporranno le bandiere a mezzasta. Ci saranno le telecamere di Fano TV a garantire la diretta dell'esequio e la presenza del Vescovo di Senigallia Monsignor Franco Manenti. Questa è la pagina invece del resto del Carlino di Pesaro e qui andiamo a trattare l'argomento caldo che sta tenendo banco in questi giorni a Pesaro e non solo, un po' in tutta Italia perché da una parte ci sono i ristoratori che vogliono lavorare, i baristi e quant'altro, dall'altra invece c'è dall'altra lo Stato che deve garantire sicurezza e quant'altro. Quelli di Carriera di nuovo in piazza, Carriera è il ristoratore, Umberto Carriera, che la scorsa settimana ha protestato e ha tenuto aperto il suo ristorante. Ma l'Associazione Ristoratori lo diffida. Ecco quindi la lotta interna tra la categoria, anche se lui non ha incarichi all'interno di Confcommercio piuttosto che altre associazioni di categoria. È, diciamo, esterno. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18.30. Lui dice, Carriera, io rappresento il popolo, sono svincolato dai partiti politici e poi lancia l'anatema contro Confcommercio e dice, Confcommercio difende interessi contrari ai propri iscritti, se ne ricorderanno. Insomma, Carriera, scrive il giornale, è stato già sanzionato due volte. La prima volta, l'abbiamo visto in diretta su FanoTV, lunedì scorso, 400 euro di multa e il foglio appiccicato sul portone d'ingresso, sulla porta d'ingresso del locale, dove c'è stata appunto la sospensione per 5 giorni. Poi è diventata di 15 giorni, perché la sospensione della licenza di 15 giorni poi è stata data dopo dal prefetto, questore e quant'altro. Insomma, lì è stata chiusa la macelleria che aveva ospitato 90 persone a cena, malgrado il lockdown e quindi la chiusura alle 18. Poi c'è stato un altro ristorante, lui ha detto che ne ha 6, in effetti ne ha 6, l'altro è stato chiuso a Candelara l'altra sera da autorità ed è stata chiusa per 5 giorni per aver accolto 3 clienti. Ora, nel comunicato, che invita a partecipare oggi pomeriggio alle 18.30 a Pesaro in Piazza del Popolo a questa manifestazione, si legge la manifestazione sarà pacifica di protesta non violenta contro le chiusure di tutte le attività economiche, sociali, ricreative, turistiche, sportive e culturali. La manifestazione è stata autorizzata dalla Questura di Pesaro su richiesta del signor Nico Domenico Palombaro, responsabile e organizzatore della manifestazione. La protesta si terrà in collaborazione con il gruppo denominato Riprendiamoci il Paese. Mentre il locale storico di Pesaro, Uldergo, dice aprire solo a pranzo, non ha senso, quindi chiudo almeno fino al 24 di novembre. Anche il Corriere Adriatico pubblica questa notizia dell'incorso, la manifestazione di oggi, la protesta attorno in Piazza del Popolo ma la manifestazione diventa un rebus. Il Presidente dei Ristoratori di Remigio dice ci dissociamo dalle iniziative di carriera e lo diffidiamo. Poi oggi non ci faremo rappresentare da chi porta avanti battaglie personali. L'appuntamento comunque è alle 18.30, lo ricordiamo. Adesso apriamo la pagina del Covid. Diamo un'occhiata com'è la situazione nella nostra Regione. Allora, positivo, un tampone su tre, titolo del Corriere di questa mattina. I ricoveri per Covid volano. Ieri 683 nuovi casi. In ospedale 369 pazienti, più 47. Ancone e Macerata sono le province più contagiate. In calo per un giorno le terapie intensive. Vedete? Meno 5. Cioè 5 persone sono uscite con le loro gambe dal reparto di terapia intensiva. Probabilmente adesso saranno in semi-intensiva o ricoverate da qualche altra parte. Poi probabilmente tra qualche giorno usciranno e torneranno a casa. Il virus però fa quattro morti. Sono morti... Allora, il Covid è chiaro che è un acceleratore. Un acceleratore nel senso che chi ha patologie pregresse, chi già è malato e ha altre patologie, il Covid se lo becchi chiaramente accelera. È come se mettessi la quinta e andassi ai 200 km orari. Questa è la questione. Ecco perché chi ha patologie, ecco perché chi è debole, ecco perché chi sa che deve stare alla larga. Poi c'è anche chi, come abbiamo visto, ci lascia le penne anche a 43 anni. Però, ripeto, è questa un po' in linea di massima la situazione. Tant'è che adesso nel prossimo lockdown si pensa addirittura, nel prossimo, scusate, di PCM, si pensa addirittura di imporre a chi ha più di 70 anni di stare certi divieti, quindi imposto per legge. Quindi vedete come si va verso quella direzione. Ora bisogna chiudere tutto, però questa è la ricetta di Guido Bertolaso, che ha aperto alla Fiera di Milano l'ospedale in Lombardia e che ha fatto la stessa cosa, però, e ha replicato l'esperimento anche nelle Marche a Civitanova con il Covid Hospital. E, intervistato dal Corriere Adriatico di questa mattina, che cosa dice Bertolaso? Dice che bisogna chiudere tutto per riorganizzare il sistema. Qui anche tamponi di massa. L'ex capo della Protezione Civile dice che il Covid Hospital è necessario. Intanto il commissario Legnini è positivo, dice, ma continuerò a lavorare. Perché poi ci sono un'infinità di positivi che giustamente neanche se ne accorgono oppure hanno sintomi talmente blandi che al di là della quarantena, al di là dell'isolamento possono fare poco o nulla, stare lì e aspettare che passi e che si negativizzino. Quindi associare il fatto di essere positiva a una condanna, a una sentenza di morte è nulla di più stupido che ci sia in questo momento. Perché poi l'associazione è questa, i media che cercano i positivi anche sotto il tappeto, sotto il materasso, sotto il letto, fanno questo di per sé, scatenano questa associazione che poi crea paure incontrollate. Terapia intensiva, attivati dieci posti in più. Qui siamo a Pesaro, sono dieci posti che ormai, sui quali si stava lavorando da qualche giorno. Ricordiamo che a Marche Nord molti di coloro che sono in terapia intensiva arrivano dal sud delle Marche perché la nostra provincia fortunatamente è ancora abbastanza e relativamente tranquilla, tra virgolette, tranquillo, chiaro. Però insomma, l'impennata è soprattutto sul fronte dei contagi e dei positivi da Ancona, Macerata, da quelle parti là. Insomma, Pesaro sta ancora andando molto bene. Gli altri 31 posti aggiuntivi previsti a Pesaro saranno pronti entro l'anno. E ne arriva un altro di PCM, restrizioni, vedete quello che vi dicevo poco fa, restrizioni per chi ha più di 70 anni, si sta ragionando, dalle 18 ci sarà il coprifuoco, sono queste le misure al vaglio delle regioni. La decisione tra stasera e domani, c'è uno scontro in questo momento, chiamiamolo così, tra le regioni che vorrebbero chiusure a livello nazionale e il governo nazionale che invece vorrebbe chiusure regionali. Insomma, facessero pace un po' anche con il loro cervello tutti quanti, perché qua a sentirli tutti veramente non ci si capisce più niente. E dire che insomma, stiamo lottando contro questa bestia ormai da quasi un anno e quindi siamo ancora qui a capire, a cercare di capire come fare. Vabbè, intanto la Pimmuni in aumento gli scaricamenti sui cellulari, Bonaccini invece, il presidente della regione Emilia Romagna, anche lui è in isolamento perché è positivo, però è asintomatico e quindi continua, dice, a lavorare da casa. Intanto il Covid in consiglio regionale, la giunta parla il 10 di novembre, domani c'è la conferenza dei capi gruppo per ufficializzare la data dell'assemblea, a mercoledì invece il confronto sul programma di governo presentato da Acquaroli e quindi se ne parlerà il prossimo 10. Gli autobus, gli autobus sono senza studenti perché da domani tutti gli studenti dei superiori delle Marche come abbiamo visto saranno a casa con la didattica a distanza e dunque si svuotano gli autobus o quasi si svuotano, però sì, per la maggior parte si svuotano. Niente più overbooking, eccola qua, la parola del giorno ma piovano le disdette tante le famiglie che chiedono di congelare l'abolamento scolastico ma per procedere Adribus deve attendere disposizioni dalla regione Marche. Mentre sulla fronte dei diabetici la battaglia è stata vinta agli ambulatori a Muraglia dopo le proteste per la decisione di trasferire il servizio a Fano l'assessore Carloni annuncia entro una settimana gli spazi saranno pronti. Chiusa la pagina del Covid qui c'è la bischerata che un pesarese probabilmente ha fatto su Google Maps per Google Maps i giardini i giardini Bottino Craxi al posto di Bettino Bottino Craxi una gogliardata di un pesarese che ha scritto su Google Maps ha segnalato su Google Maps i giardini Bottino Craxi e non Bettino ora praticamente chiunque fa una ricerca sul dispositivo quindi sul cellulare se andate su Google Maps scrivete Bettino Craxi Bottino Craxi insomma compare questo toponimo con l'aggiunta morto latitante adesso si tratterà di segnalarlo a Google e di farlo correggere Montellabate vende le azioni dell'azienda dei servizi Aspes il titolo d'apertura della pagina di Vallefoglia mille titoli a Monte Calvo in foglia per l'affidamento del recupero dei tributi locali a Senigallia Rocca blindata Movida sotto assedio multati otto ragazzi senza mascherina polizie e carabinieri in piazza del Duca otto contravvenzioni per mancanza di protezioni anche a Monte Marciano sanzioni da 40 euro i dispositivi nel distretto di Senigallia sono saliti da 54 a c'è i positivi da 54 a 152 in soli sei giorni intanto vedete la fotografia di questi controlli anti Movida polizie e carabinieri schierati in piazza del Duca mentre sulle pagine sportive le pagine che chiudono la nostra segna stampa abbiamo la sconfitta purtroppo del Fano a Ravenna il quinto KO di fila adesso è crisi nera decide un rigore di Mokulu stavolta fa festa il Ravenna Barbuti invece sfiora il pare ma sbatte sulla traversa Viscovo espulso nel finale mentre sull'altra pagina Alessandrini a questo punto dopo il quinto KO purtroppo chi paga alla fine sempre l'allenatore c'è poco da fare c'è l'ipotesi destro a questo punto la società è in silenzio 24 ore per decidere in lizza l'ex tecnico della fermana e Nico Stallone che ha guidato il porto d'Ascoli mentre sulla Vis la Vis che vince invece in casa contro il dubbio Gubbio per 1-0 la Vis esulta dopo aver visto le streghe vittoria pesante gol confezionato dai quinti di centrocampo Panitteri e Giraudo Gubbio Sprecone Malaccari centra il palo interno Panettiere subito decisivo Marchi quanto sacrificio dice e sul fronte invece cestistico si dice la VL spugna l'astronave col brivido vince in casa dopo 19 mesi ma contro Cremona rischia il patatrac i liberi di Cain evitano il KO poi il supplementare in discesa vi dico anche per dovere di cronaca giustamente anche ecco adesso in modo lo ritrovo qua in fondo scusate vi do anche il ecco il punteggio allora Carpegna Prosciutto 95 Manoli Cremona 83 questo è il risultato finale mentre dice l'allenatore della VL Repegia bene la vittoria tutto il resto da dimenticare durissimo l'allenatore con i suoi giocatori siamo stati fortunati potevano vincere loro e non avrebbero rubato proprio niente insomma tutto d'un pezzo questo coach visibilmente in questa foto contrariato perché nonostante abbia vinto però insomma non è contento della prestazione dei suoi giocatori io invece sono contento della prestazione dei nostri colleghi giornalisti dei nostri ragazzi che ancora in questa giornata che si preannuncia molto impegnativa stanno per iniziare questa giornata pronti per informarvi attraverso il telegiornale delle 20 e 30 e poi questa sera con alle ore 21 primo cittadino con Simona Zonghetti ci sarà abbiamo già detto il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci ma un occhio e una telecamera lo avremo come sempre puntato su Piazza del Popolo oggi pomeriggio alle 18 e 30 quindi mi invito a seguirci anche attraverso i nostri social network dove c'è questa manifestazione di cui abbiamo abbondantemente parlato grazie per averci seguito buona giornata a tutti